È iniziata una nuova stagione di Serie B per la Cremonese che ora può cominciare a fare sul serio nonostante il mercato fosse già in movimento da diverse settimane. Il primo colpo della nuova Cremonese è quello del regista Michele Castagnetti che era già da giorni nell'aria, ma oggi è arrivato all'ufficialità con un comunicato stampa della società grigiorossa. Dunque primo obiettivo raggiunto, anche se rimangono sul taccuino del direttore sportivo Leandro Rinaudo altri colpi importanti, a partire da Francesco Migliore che oggi era a Cremona a trattare di Gabriel Strefezza, centrocampista classe 97, dello stesso Castrovilli. Il gioiellino viola esploso la scorsa stagione in grigiorosso. Sono dei giocatori sicuramente importanti che tutti sicuramente vorrebbero in B perché hanno dimostrato comunque alla fine un certo spessore in questo campionato. Castagnetti gli ultimi due campionati vinti, giocando sempre con Spalle Empoli, il migliore è una certezza in questo campionato, è stato l'ultimo anno a Genova. Castrovilli è un giocatore di ottima prospettiva, anche comunque nel presente su cui crediamo molto, anche strefezza che ancora comunque c'è un pochettino da ragionare e da limare alcuni dettagli. Naturalmente il tutto condiviso con mister Mandorlini, ma non solo. Con il mister c'è un rapporto giornaliero dove ci si confronta ogni giorno e dove si cerca comunque alla fine di trovare le migliori soluzioni. È anche un rapporto giornaliero con la proprietà, con il Cavaliere Arvedi, con la società rappresentata dal presidente Rossi, da Paolo Armenia. C'è un lavoro da team, naturalmente con il mister si parla un po' di più della parte tecnica. Vorremmo costruire una squadra che possa giocarsi le sue carte per bene in questo campionato imprevedibile e lungo. Cercheremo comunque alla fine di prendere dei giocatori che possono dare delle garanzie, perché la piazza e i tifosi meritano questo. Si sta lavorando anche nel mercato in uscita, ma soprattutto per quello che riguarda i giocatori già in prestito la scorsa stagione, come Porcari, Talamo, Scarsella, Polak, per i quali è già vicino una nuova destinazione. Mentre quelli sotto contratto in rosa la scorsa stagione partiranno comunque tutti per il ritiro, in attesa che la squadra assuma la nuova fisionomia. Il reparto per cui c'è più attesa è quello dell'attacco. Non è semplice trovare l'attaccante giusto, quindi bisogna avere sì la consapevolezza che è un ruolo fondamentale, ma allo stesso tempo fare le valutazioni per bene. Quindi stiamo lavorando anche in quello, cercando comunque di trovare una soluzione nel minor tempo possibile. Paulinho, come ho detto sin dal primo giorno, è un giocatore che stimo moltissimo, come c'è la stima comunque del mister. L'anno scorso ha vissuto un'annata travagliata, ma credo che possa capitare a vivere questa stagione, perché lo conosco come un ragazzo solare, fantastico per la famiglia e sono sicuro che potrebbe dare tanto ed è uno di quei giocatori che ci piacerebbe tenere. Grazie. Grazie.